Buongiorno e benvenuti a questa zuppa di porro di oggi 28 novembre, martedì 28 novembre, due appuntamenti di oggi. Questa sera sarò a 8 e mezzo di Lily Grupper sulla 7 e ovviamente tra le 19 e le 20 come sempre sarò su 105 Matrix. Domani sera, non questa sera, Matrix perché in quest'ultima parte dell'anno Matrix una volta alla settimana e poi ripartiremo con due volte alla settimana dall'inizio dell'anno prossimo. Allora, i temi di giornata oggi sono pochi, non tantissimi, i giornali sono veramente noiosi oggi ma c'è un grande tema generale che oggi mi affascina ma che mi affascina negli ultimi giorni, ormai l'avete capito e c'è la questione delle fake news. Oggi peraltro una fake news di cui vi avevo annunciato ieri cioè quella dei 6,8 milioni di donne che sarebbero state violentate dagli uomini, in qualche maniera violentate dagli uomini la smentisco, la smonto sul giornale e tra poco la troverete sul sito nicolaporro.it con tutti i dettagli di questa debunking come si suol dire. Ma qual è il tema delle fake news? Il movimento di Matteo Renzi, ma non solo lui, in un certo giro di giornali sta dicendo che oggi il problema siano le fake news. In realtà Grillo su questo ha ragione da vendere, ma da vendere. Il movimento di 5 Stelle produce moltissime fake news come lo produce Forza Italia, come lo produce il PD, come lo produco io, come lo produciamo tutti quanti noi. Qualche volta le fake news sono fatte con dolo, altre volte con colpa, altre volte per ignoranza. Ieri per esempio era una news che Gallitelli fosse il candidato del centrodestra, oggi come vedremo non è una news perché l'ha detto Berlusconi ma l'ha smentito il giorno dopo. Ma il punto fondamentale per il quale Grillo ha ragione è quello che sta avvenendo sulle fake news. Oggi vi segnalo un'analisi di Repubblica su quello che sarebbe l'uomo delle fake news pro Grillo e pro Salvini, questo mignogna che gestisce una serie di siti diciamo pro Putin, pro Movimento 5 Stelle, pro Grillo. In realtà si tratta semplicemente di un signore che fa business perché se vai su quel sito dove peraltro tutte le cose che lui mette nel sito hanno indicata la fonte da cui nascono quindi uno può arrivare alla radice di quella informazione per vedere quanto è attendibile è semplicemente quello che un tempo si chiamava, anzi si chiama clickbaiting cioè se io vado su quel sito, guardo il banner di quel sito, attraverso Google e la sua società di pubblicità porto soldi a quel sito e quindi a questo signore mignogna che ha interesse quindi di guadagnare soldi in funzione di notizie del tutto prive di fondamento alcune oppure con dei titoli particolarmente accattivanti ma il processo che sta avvenendo sulle fake news è molto diverso e questo Grillo l'ha colto perfettamente cioè il New York Times attraverso Horowitz, il suo corrispondente in Italia che sembra una specie di oracolo, no? Se una cosa la scrive il New York Times che è la Repubblica di New York allora è vera! Se scrive il New York Times che l'Italia è a rischio di fake news e che questo rischio di fake news è fatto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega allora è una cosa che improvvisamente noi in Italia pensiamo che sia vera perché la scrive il New York Times il New York Times è una bufala! Il New York Times lo vediamo come se fosse la Bibbia fa schifo! va bene? Fa schifo il New York Times, fa schifo come fa schifo il giornale, come fa schifo la Repubblica come fa schifo il giornale, come fanno schifo tutti i giornali ma fa più schifo dei giornali italiani perché si sentono i più fichi del mondo non ne hanno presa una! Sull'Italia si sono inventata quella cazzata sul fatto che il governo italiano era complice di quello egiziano nell'affare Reggeni che era una bufala scusatemi, il New York Times è quel giornale che ha continuato a pensare che Hillary Clinton fosse la candidata alla Presidenza della Repubblica in corsa con maggiori chance di vittoria fino all'ultimo giorno! Davano sondaggi bufala! Davano informazioni bufala! per far perdere Trump! Il New York Times è quel giornale che dieci anni fa non oggi aveva lo scandalo Weinstein in mano e non lo ha pubblicato perché Weinstein era troppo potente ma noi se una cosa la dice il New York Times pensiamo che sia il massimo dei massimi oggi su questo elemento delle fake news si interroga anche Travaglio mi spiace che essere d'accordo con lo strigione del Movimento 5 Stelle ma lo sono mi spiace essere d'accordo con Beppe Grillo ma lo sono perché in realtà è palese quello che sta avvenendo quello che sta avvenendo è esattamente il contrario e cioè che un grande gruppo editoriale e una grande parte dell'establishment mondiale non ci sta, non vuole perdere il suo peso e allora che cosa fa? Pensa che la Russia sia quella che sta investendo con le fake news e cambiando con le fake news il signor Putin la storia mondiale, una specie di spectre avete presente quello di 007? Allora cosa succede? il New York Times è il primo a tirar fuori questa stronzata della spectre cioè come se gli americani avessero votato per Trump perché sono stati investiti dei soldi su Facebook nel frattempo invece la Clinton non ha investito i soldi, ha speso 10 volte di più e che è scema, anche lei ha investito sui social network evidentemente non possiamo pensare che la vittoria di Trump nasca da una fake news creata contro la Clinton pagata da Putin che è la tesi del New York Times tesi che vuole rilanciare anche in Italia va bene? Anche in Italia vuole rilanciare questa stronzata sì, bravo Alessandro, il New York Times è la Repubblica d'Oltro Oceano ma è peggio, ma è molto peggio perché se si può i Libera, cioè la sinistra new yorkese è molto peggio della sinistra radical chic italiana tant'è che Tom Wolfe il radical chic se li inventa a New York, mica se li inventa a Roma vado oltre, cosa succede in Italia? che questa inchiesta del New York Times, queste informazioni da 4 soldi del New York Times fatte su un ex hacker come oggi scrive il fatto di Anonymous questo stroppa che viene definito, a me non me ne frega niente che lavori con Carrai quindi con Uomo di Renzi, ma non si può basare un'inchiesta su questo stroppa che trova semplicemente che ci sono dei siti che fanno clickbaiting cioè è questa la notizia, ma comunque andiamo avanti il punto fondamentale è questo, New York Times establishment vuole dimostrare che con le fake news Trump ha vinto grazie a Putin, inchieste in America una dietro l'altra questa cosa in Italia si lega alla volontà del segretario del PD Renzi e del Partito Democratico Renzi che sbaglia, sbaglia di grosso in questo caso a pensare che ci sia un'alleanza tra Putin e Movimento 5 Stelle per uccidere appunto il Partito Democratico è una specie di costruzione imbarazzante, non è un complotto, non sono le scie chimiche non è la balla, è semplicemente una convergenza di interessi e questa convergenza di interessi fa sì che Rezzi oggi converga con gli interessi del New York Times pensando che il Movimento 5 Stelle, Putin e Lega gli vogliono fare un mazzo così insomma trovo che sia questa roba delle fake news una enorme gigantesca bufala di altro oggi c'è, ve l'ho parlato del generale dei Carabinieri che dovrebbe essere il candidato di Berlusconi ragione nella vignetta di Giannelli, Berlusconi che parla con qualcuno l'ultima barzetta sui Carabinieri la sai, Gallitelli presidente del Consiglio mi sembra che già Berlusconi ci abbia ripensato voce dal Senna Fuggita, favoloso il pezzo di Del Vigo oggi che dice ci avete rotto le balle con le classifiche, tutte le classifiche sono sbagliate tranne quelle dei dischi e non so di chi altro scrive nella prima pagina del giornale soprattutto sulle città più vivibili, a che palle costo fatto le città più vivibili è o Bolzano, Belluno, non lo so, queste città che saranno bellissime e straordinarie ma dice anche vivere in una metropoli dove c'è tutto, i musei, la vita, la caos, la velocità che a sala non piace beh, insomma, la vita nelle metropoli è ancora una vita che a me piace moltissimo ci sono altre cose sui giornali ma oggi di scarsissimo interesse io vi ricordo che se vi interessa questa zuppa ovviamente l'unico strumento che abbiamo è quello di condividerla quindi rendere questa fake news il più widespread possibile il più diffusa possibile nell'etere e nella rete e vi ricordo come sempre che sul mio sito nicolaporro.it avete tutti gli articoli che ho scritto, roba anche più fresca e sul sito, come sapete, posso avere tutta la libertà di mettere insieme la produzione che faccio non solo io ma tanti altri amici un abbraccio, condividete, ci vediamo domani e stasera ci sentiamo in radio ciao